Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video da Michael E eccoci in questo primo video di Suka E va bene, primo video di Super Mario Ecco, io a Super Mario non ci gioco da un po' E questo Super Mario non è Mario normale come avete notato Ecco E ma come si chiama? Mario P-P-P-Sick Adventure E non è difficile da guidare, è molto molto difficile Come avete qui c'è il testino ma io ci so giocare ma questo gioco comunque è molto molto difficile Allora, non è una vera serie perché i dati non si salvano quando uscire niente Quindi uccidiamo questo gu... Bah Sentite, io a Mario sono scarsissimo Ah, vediamo Aspetta, ma se hai fatto così? Io entro qua Non si può No È aperta Questa è aperta Sì sì, questa è aperta Abbraccio, lo senti Allora, vediamo Questo livello strano, cubico Allora, i livelli cubici non mi piacciono perché sono insensati E' la che salta Cioè, guardate, ditemi il senso di questo livello cubico No Sono scarsissimo Sono scarsissimo per Mario Peh Poi Goomba Allora, corriamo 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 Maella 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 vai, maella cane Ok Dai, maella cane Ok 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 Maella cane No, maella Maella puttana del canne De canne Oh Scusate Allora Io ho supermai, l'odio Oh Stucca No Questo è mai il paroccato come dice I tumuli Non è il vero supermai, questo Questo non è supermai, questo è un obbio Cioè Questo vi sembra supermai, poi vi lo ho in link in descrizione Del gioco Quella Quella Ella, ella, ella Che devo fare, chi? Chi, non so che fi Vai Io parlo in lukese Perché non lo conosco Viva luk Eh Ella, bella No, si Vai Vai Ella, ella, ella Io parlo in lukese con ella Già detto Bella Vai Bella Bella Vai Elle Elle Non è diavolo Elle E' una roba Non so E' per non dire diavolo Così Perché ho sentito Dire che vuol dire diavolo Non so Alleluia Te Io me ne vado Vai Vediamo Posso non il livello di prima Quello che avevo sbagliato Porca te Io vado in campeggio Ah Poi qualche giorno Vorrei fare video su GTA 4 Io vi chiedi di macchia Di macchina Su GTA 4 Erano bellissimi Mmm Facciamo una cosa La 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 Io non guardo Di azzardino Ah Ti ho beccato Addio Su Cioè Cioè No no Questi sono livelli Taroccati di Super Mario Cioè Questo è veramente Taroccato Cioè Ahimè Eh Ahimè Cioè Cioè Figli di Ecco Escono Lo sapevo Lo sapevo Figli di Cioè Sono dei Dei Obrobi Adesso Vi faccio vedere io Che Che un obbrobio Che è ancora un obbrobio Porca Deva Ah Ma è Oh Ma è la Canale Questo si gira Non è A vero Tutti quelli che hanno Che amano la scuola Se ne vado Non a questo canale Per forza Guardate via Io Io Le persone che Alla odiano Comunque Allora Allora Ma vaffan Allora Allora Ragazzi Allora Bene 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 Te Vai Adesso Le palle Oh Vabbè Non mi fanno niente Vado Giusto Tu non mi fai niente Anzi Pesso le gumbano Pesso E là E là Che vi sentite Che vi sentite E no Non mi fatti Ok Non mi fatti Ma porca Porca Eva Porca Eva Eva Cagnandereva Ok Allora Mario Taroccato Corri Alla svelta Ma vaffan Su Cosa No comment 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 Allora devo finire questo livello Almeno questo livello Solo questo livello ok Fatemi finire almeno questo livello Porca Adesso questo gioco lo metto nel mio preferito E ci faccio gli episodi Purtroppo devo iniziare sempre all'inizio Se volete Se volete let's play però inizia sempre all'inizio Cioè poi conosco i giochi Flesh game di minecraft Ok ok porca era Porca era ma è ma puttana vai Allora ok 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 porca era Di un pelo di un pelo e tu Qui c'è scritto tele tu Che devo pensare Io ho un'idea Adesso divento un esperto Pam Un secondo questo Ecco un secondo Ok adesso divento un esperto Pam Ciao a tutti ragazzi Sono esperto Di questo gioco Infatti mi chiamo proprio Super Mario E allora in questo gioco non posso sbagliare Proprio come ho sbagliato mai Col Ehm rifacciamola Ok Ok ciao a tutti ragazzi Sono Ehm Super Mario Sono E facciamola Ciao a tutti Basta Io me ne vado in un altro livello Cioè me ne vado in un altro livello Si può fare Gillo Che fa che capo fa Ehm Si Tavo chi Non tavo Chi Si Cioè Vabbè Ognuno può fare quello che vuole Io mi devo ricaricare Scusate Scusate io sto muovendo Ehm No dico così 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 Allora Cioè T'ho creato di me Ehm Di me Ehm Puttana Oh ok Sì Ehm No 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 Questo livello è una Cavolata Naturalmente ho superato il livello prima Ma vabbè Tanto nessuno Non gliene frega nessuno Vero Ho mi segnalato alla polizia Per aver superato il livello di Super Mario Pensavo che i gombo si prendevano il jetpack No 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 Sono Sono un beato Cobby Cobblione Vediamo il livello avanti Non so Così O così dico A me in testa Mi fai salire sul trampolino Bella cane Bella cane Ma porca Eva dai Eh Ma Eva cane No Eh Eva cane Ma porca Eva No Eva cane Vabbè ragazzi Vi chiamo appena finito Allora Sono arrivato qui No Vabbè Dai no Dai dai ma porca Ma porca Eva Dai Sì Ok No Ah mi sembrava che mi faceva tornare lì No dai Devo salire lì No 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 Sì Ok Rie c'è qua in questo video Ah Miè Nel da madre Oh Sali Miè Sono super super figameo Eh Un secondo ragazzi che vi faccio una cosa Signore e signori Eccoci qua in motocross Oggi con ospite d'onore Super Mario Uccidi Goomba Tartarughe Ecco che sta facendo il record mondiale di gusci Eh Ragazzi non se lo può lasciare affatto Quindi Fa così E li sposta tutti Perché Chi distrugge Be vai dei gusci così belli Mario Sei il nostro figo migliore Ti senti un dio Delle moto Ehm Non tanto Non tanto Qui parla Mario ragazzi E guardate che è difficile guidare la motocross Mario Allora Che ci vorresti dire E non so La motocross Rallenta Comunque Come vedete in questo video Io sono molto Molto bravo E addirittura Ho riuscito a battere Schettino Nella guida E ho battuto Schettino Perché Schettino Non guidava molto bene Non guidava secondo me Neanche Non guidava la moto Ma in generale Non guidava bene Perché ha fatto affondare La nave dei piatti No La nave dei Gollum No Shakes No Heavy Jet No Telecom Italia No Tele2 No Aggiungere preferiti il gioco No Mario PC Adventure No Parli di nave di 24,90 euro al mese Per sempre Passa subito a Tele2 No Score 8100 8100 No Ah vabbè Ciao Ma dai Sentite ragazzi Allora questo livello Questo gioco tra l'ho cato E mi ha rotto Cioè è una merda Ah devo usare lì il jetpack Vabbè ragazzi Allora ci Ci sentiamo Nel prossimo video Questo è Super Mario PC Adventure Non mi ricordo cosa E vabbè Ci sentiamo Nel prossimo video Ragazzi Finiamo questo livello Motocross Bella pure Ciao 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 Vai No 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 Così Non così Eh Mario Quella Quella Mario Oh Quella Ma Puttana Tua Ciao Ragazzi Da Michael È tutto Se vi è piaciuto il video Cliccate mi piace Iscrivetevi E anche da Mario Ah no io ho detto Mario Vabbè E niente Questo è Mario PC Adventure E Se vi è piaciuto il video Come sempre Cliccate mi piace Commentate Iscrivetevi Perché È a 14 iscritti Ragazzi Non è un record Ma vabbè Già è tanto E ragazzi Da Michael È tutto Ciao a tutti Ricordate Di dire Ciao Anche su Gli commenti Da Michael È tutto Ciao a tutti Un bacione Ciao Compra la nuova auto Che non si vede Si chiama Ogni viaggio Star 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 Ok Da Michael È tutto Questo inconveniente È una cazzata E Ciao a tutti Ah Una sigla finale Così Vai Dai Michael È tutto Stop Grazie a tutti.